Primo giro nella navetta gratuita per il Centro Storico, come è andata? È comoda? Un momento qualcosa? No, comodissima, utile. Noi eravamo giù alla piazza per venire a San Martino, non è tanto, però l'abbiamo utilizzata. C'è sta bene, è comodissima, speriamo duri. Secondo lei? Sì, provato va bene, è una bella cosa. Ma voi dove avevate parcheggiato? Noi, qui a San Martino. E quindi però eravate usciti e adesso l'avete presa? Siamo ritornati a San Martino. Quindi la giudica positivamente? Sì, va. È entrata in funzione, in fase sperimentale, la navetta gratuita per il Centro Storico di Gubbio. Dalle 6.30 del mattino e fino alle 19.30, il piccolo bus dalle grandi vetrate percorre le vie dell'acropoli cittadina, accogliendo residenti, cittadini e visitatori. Più di 50 le persone salite nella sola prima mattinata, la maggior parte tutte molto soddisfatte del nuovo servizio. È comoda, io ho mai presa, vuol dire, nel Gubbio sto nel Centro Storico, non è che esufruisco della navetta, però ogni tanto... Ecco, si deve per esempio spostarsi alla posta, non è... è utile? No, io sono a 100 metri dalla posta, non mi fa pigliare la navetta perché allora è assurdo, sarebbe... Magari però un altro servizio che è più lontano da dove? Un altro servizio magari, sì, la prendo perché è utile. Da dove venite? Noi veniamo dal Canada, da parte francese. È la prima volta che venite a Gubbio? Ah, la prima volta. Ed è la prima volta, come tutte le persone che sono sulla navetta, che usufruite di questo servizio. Pensate sia utile? È assolutamente utile. Per le persone più anziane direbbe che è molto utile. E dove avete parcheggiato? Con questa potete raggiungere facilmente il luogo dove avete lasciato l'auto, forse? Sì, sì, siamo vicino alla chiesa San Francesco. Un parcheggio. E quindi questa un po' vi aiuta nel fare anche il giro della città? Sì, per girare per la città. Adesso andiamo a... il signore ci porta all'ufficio turistico, ma andiamo a camminare anche perché... Tutte e due le cose. Tutte e due le cose, sì. Ancora da sistemare qualche dettaglio, ad esempio la cartellonistica all'interno della navetta con indicati percorso e fermate per regolarsi sulla loro prenotazione. Massima disponibilità degli autisti che nei punti di salita e discesa, nel caso ci siano dubbi e curiosità sul servizio, non si risparmiano nel dare informazioni o nell'invitare i passanti nel salire a bordo e provare. Negli scorsi giorni l'associazione Vivere nel Centro Storico di Gubbio in una lettera si era detta favorevole al servizio, avanzando alcune proposte. La previsione di attrezzature di protezione dalle intemperie alle fermate in caso di maltempo durante il periodo invernale, qualora la navetta sarà ancora a regime. Il mantenimento di tutte le corse, di tutte le linee urbane, da e per il Centro Storico, per garantire comunque il collegamento del bus navetta con le linee urbane esterne, ma soprattutto il prolungamento della sperimentazione, ora al 31 ottobre, almeno fino al 10 gennaio. Ciò per avere una base dati sull'utilizzo più ampia, sul tipo e le caratteristiche dell'utenza. Resta difficile in un periodo così breve valutare l'appetibilità del servizio, ma prolungandolo, secondo l'associazione, in vista della mostra del tartufo, dell'accensione dell'albero di Natale e delle festività natalizie, si potranno avere ulteriori e maggiori dati.